Marchio Il testo etico regionale per le imprese è il provvedimento approvato in terza commissione e naturalmente favorisce, intende favorire le imprese locali, soprattutto la qualità, mettere in rilievo la qualità delle imprese locali. Ne parliamo con Antonio Marciano, ospite di questa puntata del taccuino politico della Campania. Il testo approvato all'unanimità oggi in terza commissione, quindi il passaggio successivo sarà la commissione bilancio, la seconda commissione. È un testo, ritengo, importante per il sistema delle imprese campane. Il riconoscimento del marchio etico è una cosa che già vive in altre regioni d'Italia. È un riconoscimento di qualità. Per qualità intendiamo la qualità delle produzioni, ovvero la qualità degli ambienti di lavoro, il rispetto delle regole degli ambienti di lavoro, il non utilizzo di minori dentro le attività produttive, dentro le imprese. Quindi in qualche modo rileva dal punto di vista etico la buona produzione, la qualità del prodotto finale o del servizio proposto e realizzato da quell'azienda campana. Riguarda tutte le aziende della Campania che insisto nel territorio regionale, che quindi qui producono beni e servizi, ritengo che sia un investimento importante. Un'impresa che avrà questo riconoscimento significa avere di fronte all'opinione pubblica, ai consumatori, al sistema produttivo in generale, un via libera sulla qualità del prodotto o del servizio erogato. Ecco, sei anche componente della commissione bilancio all'attenzione di questa commissione, cioè la variazione di bilancio. Tagli per circa 250 milioni e in giro c'è una certa preoccupazione. Dove taglierete? C'è ancora da tagliare da qualche parte? Vediamo intanto il governo dove taglierà. Io continuo a pensare che una politica, questo vale a Roma e vale a maggior ragione in Campania, una regione particolarmente sofferente a causa della crisi, una regione che è una politica che si basa soltanto su austerità e rigore, senza politiche di incentivi alle imprese o di sostegno alle attività produttive, o di sostegno al reddito, alla qualificazione della formazione dei nostri giovani, è una politica destinata al fallimento, è destinata a impoverire una grande comunità regionale come la nostra. Vediamo qual è l'idea di governo, del governo di centrodestra, della giunta Caldoro, perché in questi due anni e mezzo abbiamo sostanzialmente replicato in sedicesima quello che a Roma si è fatto. Tagli, senza un'attenzione particolare alle imprese e alle famiglie, senza un'attenzione particolare alle aree di marginalità, di vecchie e nuove povertà che avanzano. Ora, il tema, poiché ci sono pochi soldi e che c'è una crisi generale, di per sé non giustifica atteggiamenti che in qualche modo lasciano da parte la responsabilità di chi governa. Anche di fronte a bilanci risicati e a risorse disponibili sicuramente inferiori rispetto al passato, questo vale per la Campania e per il sistema Italia, si possono fare scelte importanti. E per me le scelte importanti sono appunto sistema della mobilità, famiglie in difficoltà, sostegno a una giovane generazione di cui è particolarmente ricca la Campania, aiuti al sistema imprenditoriale e produttivo della nostra regione. Da questo punto di vista ci sono risorse enormi, non utilizzate e non spese quindi. Siamo la regione Fanalino di Coda sulla programmazione e poi sulla spesa dei fondi per lo sviluppo regionale, piuttosto che i fondi del Fondo Sociale Europeo. Lì ci sono dati che non vengono da nostri studi, ma sono tabelle ufficiali del MEF, della Ragioneria dello Stato, della Commissione Europea. Quindi io prima di parlare di tagli mi dedicherei con attenzione a quelle risorse che non abbiamo ancora impegnato e che potrebbero dare una mano alla Campania. Passiamo alle vicende del Partito Democratico Napoletano. Cimmino sarà il nuovo coordinatore provinciale, il segretario, presidente, ormai è difficile. Mettiamoci d'accordo sulle parole. Non cambia la funzione, segretario provinciale del PD napoletano. Io lo ritengo un dato molto importante. Immagino adesso i soliti commentatori, perché quando il PD si divide sono tutti lì a criticarci sulla incapacità di fare sintesi. Ora che il PD ha trovato una sintesi, immagino che una certa parte di commentatori si dedicherà a capire che cosa c'è dietro questa sintesi. Secondo me non c'è nulla se non la responsabilità di tutte le forze del PD di aver capito che il PD si costruisce non contro qualcosa o contro qualcuno, ma si costruisce per qualcosa la Campania e la provincia napoletana in questo caso, e per qualcuno le famiglie e le imprese che sono in difficoltà in questa parte di territorio, e tantissimi giovani che vorremmo non emigrassero più da questa parte di territorio. Segnalerei un dato, secondo me, politicamente importante. Gino è un ragazzo giovane, che ha sulle proprie spalle anni di militanza importanti. E' una di quelle figure, solitamente non in primo piano, nella vita politica, quella che in qualche modo si rapporta alla stampa, alla comunicazione, ma una di quelle figure che hanno consentito in questi anni di tenere aperto una luce e di tenere accesa una speranza. A Gino il grande compito di unire ancora di più il partito, di valorezzare tutti, di dare piena cittadinanza politica a tutti, così come non è accaduto dal 2007 ad oggi, e intanto il merito di un giovane di aver saputo unire un partito che sembrava non più riconducibile a unità. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale, questo abbraccio a distanza tra Bersani e Casini. Tra l'altro è stato un abbraccio di grande vicinanza, si sono incontrati in Sardegna in occasione di un convegno per ricordare Berlinguer, hanno parlato di quello di cui hanno parlato già nei mesi e negli anni precedenti, almeno negli ultimi anni della storia politica più recente del Paese. È evidente che lì, tra noi, le forze del centro moderato che si raccolgono intorno all'Udc, ci sono le forze, le uniche forze possibili che possono candidarsi a rappresentare un'alternativa alla storia degli anni passati e anche una, come dire, discontinuità rispetto all'esperienza del governo dei tecnici. Mi sembra un campo di iniziativa politica quasi naturale. È un percorso che va sicuramente sperimentato, noi lo dobbiamo fare anche con una vivacità culturale, politica nuova, sperimentando forme di aggregazione di coalizioni assolutamente nuove e inedite e lo dobbiamo fare negli interessi del nostro Paese. Intanto Letta, Enrico, ha auspicato anche una partecipazione di Nichi Vendola a questa nuova intesa, a questa nuova alleanza? Noi dobbiamo unire il campo delle forze moderate e di progresso per il bene del Paese. Se dentro questo recinto troviamo forze, culture, tradizioni politiche che si riconoscono, bene. Dentro una dinamica di coesione e di responsabilità, non certo, dentro una dinamica di ricatti e di veti incrociati che un vecchio centrosinistra ha pagato e ha pagato pesantemente sulla propria pelle. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.